Oggi vi presentiamo un fucile a molla FN Scar Herstal, loghi ufficiali prodotto dalla Cybergun, si parla di un fucile sempre da Softair 6 mm, tutto il tecnopolimero molto robusto, caricatore da 350 colpi, naturalmente il caricatore è molto filare però c'è il serbatoio che ci stanno a 350 colpi, per ricaricarlo si basta tenere giù, scurlando così i pallini lo hanno in fila, impugliatura grip anteriore regolabile, calcio folding che si ripiega e dovrebbe essere anche calcio allungabile in quattro posizioni, per caricare c'è il bolt qui si tira indietro e si spara, tacche di mira flip up che si abbassano e si alzano, buon prodotto, luoghi ufficiali prodotto da Cybergun.